ragazzi c'è una cosa che non fa? si, mi sono ancora usato i capelli, mi è uscita questa schifezza questa schifezza aspetta a lei l'è uscita così e a me l'è uscita così mamma me la rifà adesso però dovevo aspettare tantissimo, non fino a 15 fino a 15 questa è una schifezza io ho i capelli, ho i capelli così ma non mi è uscita nulla brunete aspettate aspettate mamma mi è uscita sempre parlano e rompono finalmente che non sono casa mia o se non mi sento nulla sono inscrizione oh my gosh adesso mi sembra cresci perché io sono la preziosa io sono la preziosa wow mamma papà mamma papà non mi sento wow questo perché si deve sempre chiudere ecco il cuciuccio un piccettino qua è lunghissima Il colore giallo mi piace C'era quello rosa, azzurro, verde E altri colori dell'arcobaleno Ma io scelto lo giallo Riccino l'arancione Rosso, arancione e giallo Io scelto il giallo perché mi piace il giallo Voglio essere il biondino Oh mio Dio Qua non ci sono i guanti, ci può Neanche un guanto c'è Mi sembra che questa ciocca se ne va via Mi sembra, e mi sembra Non forse Mi sembra Wow Jeff lo farebbe questo? E boccasio Mi sembra di no Jeff non lo farebbe mai Io ho visto Clarins E assumo tutte quelle cose che Neanche potevo seguire Ciao, chiudo Mi devo mettere la carta E pulirmi questa ciocca Non potevo Non potevo Ciao ragazzi Ciao Ciao Adesso come faccio a caricare il video? Prima vado a pulirmi le mani Ciao Ciao Ciao